Alleluia, Alleluia, Alleluia. Per prepararci alla venuta di Gesù il Salvatore, ascoltiamo la parola del Vangelo, che Maria, la madre, ha ricevuto l'accordo per noi. Alleluia, 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 Alleluia E in Cresus, Anderus, Anderatis, e in Cresci, Ave Grazia Plena, Dominus Decul, Verità Tu, Nico Mie. Ave Grazia Plena, Dominus Decul, Ave Grazia, Dominus Decul, Anderus Decul, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti